mamma mia che trambata mamma mia che trambata ieri sera salernitano a Brescia 1-3 tripletto di Donnarumma vabbè Donnarumma è un altro di quei giocatori forti è uno di quei giocatori che farebbe comodo al Pescara è uno di quei giocatori che è passato per Pescara ma noi tifosi non abbiamo potuto mai vederlo perché il genio del nostro presidente Sebastiani lo ha regalato lo ha svincolato quando è arrivato anche la Padula lì c'è stato anche lo zampino di Oddo che ha detto che Donnarumma non era buono ha avuto senere soltanto la Padula però io credo che a tutto ci sia un limite questa è l'ennesima trambata del nostro Pescara perdere un giocatore di nostra proprietà regalarlo svincolarlo darlo al Teramo in cambio di la Padula che avevamo preso a parametro zero lì lo sanno soltanto il presidente del Teramo e il nostro presidente del Pescara che ma che già hanno combinato comunque raga prima di andare avanti pollice in su se il video vi piace mi raccomando commentate qui sotto nei commenti condividete il video e se ancora l'avete fatto iscrivetevi al mio canale iscrivetevi qui sotto pulsante iscriviti e iscrivetevi a 1936 solo io attivate la campanella in modo che ad ogni mio nuovo video vi arrivi la notifica sul cellulare sul pc o sul tablet bene raga andiamo a parlare di questa partita giocata ieri Salernitana Brescia 1 a 3 in pratica il Brescia ha preso a pallare la Salernitana in casa oh povero Colantuono che anche tu che anche tu Colantuono Colantuono all'arma rossa all'arma rossa all'arma rossa anche questa anche questa anche la panchina di Colantuono a quanto pare è a rischio perché pare pare che il futuro di Colantuono si deciderà con le prossime partite del mese di dicembre però però se dovesse perdere la prossima giornata a Carpi allora il tecnico potrebbe essere anche lui già in discussione io non riesco a capire il motivo comunque vi sto consigliato che la Salernitana è decima in classifica a 20 punti e in pratica solo un punto dall'ottavo posto occupato attualmente dal Perugia che è valido per la qualificazione ai playoff per andare poi in Serie A a giocarsela quindi non riesco a capire questa questa cosa dell'esonerare eventualmente Colantuono con un risultato negativo a Carpi oppure nelle prossime partite raga detto ciò è successo esonerato Grassadogna dal Foggia dai che torna Zeman dai che torna Zeman al Foggia dai che torna Zeman e invece no e invece no mannaccia la puttana oh Zeman non lo vuole nessuno manco il Foggia porca miseria ma è proprio destino il Marocco andiamo in Marocco voliamo in Africa vabbè raga torniamo a Sergi oggi è stato esonerato Grassadogna dal Foggia una classifica a quanto decimitaria per il Foggia perché sono diciottesimi con soli nove punti raga penultimi in classifica è vero che sono partiti con meno otto quindi è come se fossero a 17 punti ma con 17 punti sarebbero davanti al Cosenza e quindi sarebbero al quattordicesimo posto quindi non è che saltano tante squadre la classifica è corta è vero che poi ci sono tante squadre 7-8 squadre in 2-3 punti però 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 è vero anche che il Foggia sta avendo dei risultati alquanto altalenanti e non soddisfano le aspettative di inizio anno con la rosa che si era fatta è vero anche che il Foggia in molte partite è stato anche sfortunato io devo ammettere anche che quando sono venuti qui a Pescara molto probabilmente se Mazzè avesse segnato quel calcio di rigore ora staremmo parlando di una vittoria del Foggia e di una sconfitta del Pescara però le partite sono fatte di episodi in quella partita Mazzèo ha deciso di centrare la traversa e poi Graviglion la peretta la messa e abbiamo vinto 1-0 senza rubare nulla assolutamente quindi nel calcio contano anche gli episodi a volte a favore a volte a sfavore quindi per il povero Grassadonia le cose non sono andate come dovevano andare e come al solito quando i risultati non arrivano chi paga è l'allenatore oggi c'è stata la riunione fra il direttore sportivo e il presidente Sannella in pratica il presidente ha detto che sono stati costretti ad esonerare Grassadonia per via dei risultati hanno parlato anche alla squadra hanno informato i giocatori hanno avuto un confronto con i giocatori hanno esonerato Grassadonia stanno parlando in questi giorni fra oggi domani o addirittura dopo la prossima partita di campionato con la Cremonese dovrebbe arrivare il nome del nuovo allenatore si parla insistentemente in queste ore di Del Neri ma anche Deglio Rossi è ancora in lista se dopo questi due si comincia a parlare di Gallo e di Patalino perché di Zeman no? minchia io aspettavo Zeman un ritorno di Zeman con la nuova Zemanlandia invece no vabbè io certe scelte non le capisco tornando Serri io un ritorno di Zeman al Foggia mi piacerebbe e non poco sono uno di quelli per il calcio romantico quindi Zeman è incominciato lì io dico che finisce la tua carriera lì quindi torna a Foggia facci vedere un'altra volta Zemanlandia così poi vai tranquillamente in pensione e tutto finisce vabbè raga oramai io ce l'ho questa questa come si dice Onomea oramai c'è il nome io sono diventato anti-zemaniano io sono semplicemente tifoso del Pescara a me Zeman non mi è andato giù lo scorso anno per tante scelte per tanti motivi a maggior ragione oggi e sappiamo che sei anni fa dopo che ci ha portato in Serie A era andato a parlare dopo che con la Roma pure col Palermo con i Zamparini quindi pensa un po' il mercenario dove andava e quindi per me Zeman finito chiuso però spero sempre che torni in qualche altra squadra e ci faccia vedere il suo calcio sfavillante io vorrei vederlo questo Foggia con Galano terzino destro e Chiaretti regista Yemmello difensore centrale che oramai Zeman ha tutte queste visioni mistiche dove lui sposta i ruoli al giocatore quindi chissà 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 magari vediamo pure il primo gol in Serie B di Albano Bizzarri magari fa fare attaccante perché sfrutta le sue doti aeree vabbè raga torniamo a Serie questa Serie B veramente c'è Bagar lì davanti classifica corta devo dire che nelle prime cinque posizioni ci sono cinque squadre in cinque punti il Palermo a 29 poi Lecce e Pescara a 26 Brescia che è tornato al quarto posto prepotentemente insieme al Cittadella a 24 poi c'è il Verona a 22 poi andando giù Benevento e Perugia a 21 Spezia a 20 e andiamo giù è un bel un bel campionato tosto equilibrato con tante squadre a contendersi la parte alta della classifica occhio al Brescia perché da quando hanno tolto Suazzo se non c'era Suazzo il Brescia adesso stava fra i primi posti messo Corini un allenatore in panchina il Brescia incomincia ad annellare una serie di risultati non indifferenti infatti una delle difese meno perforate del campionato e mi pare che sia la squadra che ha segnato più gol con 28 gol poi ci stanno il Pescara e il Palermo no il Lecce e il Palermo con 25 e il Pescara a 23 quindi occhio al Brescia che ha dei numeri importanti occhio anche a Lecce che sta facendo un bellissimo campionato giocando un bel calcio con mister Liverani il Cittadella è una squadra ostica lo sappiamo e il Verona è a 22 punti la settimana prossima big match Verona Pescara Verona Pescara Verona Pescara al 20 godi quindi raga che dire è un campionato bello da vivere nel prossimo turno ci sarà venerdì alle 21 Foggia Cremonese Ascoli Cittadella e qui il Cittadella è una partita insidiosa perché l'Ascoli ha perso fuori casa a Venezia quindi occhio 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 al picchio perché i picchiarelli vorranno riprendersi dove siano fermati altri tempi Palermo Nivorno potrebbe essere una partita ostica per il Palermo perché il Livorno è ripresa vinto con il Foggia quindi da quando è cambiato l'allenatore un po' un po' un po' la musica è cambiata poi c'è un diamante in grande spolvero chissà che possa fare un gol dell'ex al Palermo Perugia Spezia altra partita dall'alta classifica con due squadre a ridosso della zona playoff Cosenza Benevento occhio qui perché questa è una partita molto delicata il Cosenza gioca per la salvezza il Benevento deve riprendersi assolutamente dopo la sconfitta casalinga con il Verona quindi deve vincere altrimenti io penso che se il Benevento non vince a Cosenza Bucchi salta Bucchi salta quindi sarà una partita impegnativa Carpi Sernitana abbiamo detto che è una partita importante per il Carpi che vabbò madonna che squadra schifosa il Carpi proprio zero cioè gioco zero e la Sernitana deve fare risultato lì a Carpi altrimenti poi ne potrebbe fare le spese con l'Antuono Crotone Venezia un'altra partita importante perché questo Crotone si deve riprendere si deve riprendere perché Oddo mi pare che non abbia vinto ancora una volta da quando è la guida del Crotone il Venezia viene dalla vittoria casalinga con l'Ascoli quindi altra partita insidiosa Brescia-Lecce domenica alle 21 è la partita fra seconda e terza in pratica quindi altro big match di giornata il Brescia ha vinto 3-1 con la Sernitana il Lecce ha pareggiato invece 0-0 con il Perugio quindi occhio a questa partita e poi lunedì il big match proprio big 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 match al 20 godo di Verona Merdas Verona Pescara alle ore 21 ragà adesso vi saluto mi raccomando pollice in su commentate condividete iscrivetevi ci vediamo alla prossima sempre forza Pescara buona serbia a tutti ciao